Benvenuti nel mio studio, sono Cialimbruschi Romano, un pittore, e oggi vi condurrò alla realizzazione della composizione per un paesaggio di mare. Venite! Disegnare la composizione è il primo passo per la realizzazione dell'opera. A me piace sempre avere ben chiaro in mente cosa voglio fare e dove voglio farlo. Allora che cosa faccio? Come voi vedete anche in seguito, io traccerò in grandi linee la composizione, ossia quegli elementi che andranno a gestire la superficie dell'opera. Di solito io metto in primo piano qualcosa per poter dare poi un effetto prospettico, perché immaginare la composizione finita, armonica prospettivamente, coloristicamente, è importante in maniera tale che al momento che poi si andrà ad apporre il colore, noi abbiamo già stabilito dove saranno le zone di chiaro e di scuro e non andremo casualmente. Io ho una peculiarità, difficilmente metto in evidenza la sorgente della luce, ossia non metto mai una luce centrale dove noi abbiamo la possibilità di vedere immediatamente, perché mi piace l'idea di tenere nascosta la fonte per poter dare così adito all'immaginazione di poter navigare all'interno del quadro e non metto mai luci generali, ossia quelle luci che sono omogenee in tutta la superficie dell'opera. Io faccio dei tagli di luce, a me piace lasciare immaginare a colui che osserva il mio quadro, da dove la luce possa provenire, in maniera tale che ci sia anche questa ricerca, è come un pensiero, è come attingere ad una memoria diversa, superiore quasi, scusatemi il termine, per poter poi avere chiaro in mente l'effetto luminoso e la sorgente dalla quale scaturisce quella luce che andrà a tagliare tra luce e ombra tutta quanta la composizione che sto realizzando. Come vedete sono tracce molto veloci, difficilmente, raramente ritorno sullo stesso segno, perché non mi interessa che siano definite nel particolare. La cosa che vado a cercare in questo momento dello studio della composizione è che ci sia armonia nella composizione stessa e non solo che la definizione di luce o di ombra, voi vedrete che man mano che vado avanti vado a scurire tra l'une parti e lascerò in chiaro pochi tagli perché a me piace una luce concentrata in un punto. È come se noi andassimo a concentrare la nostra attenzione su un solo punto e secondo me concentrarla su un solo punto è una sorta di identificazione, è come se noi aprissimo una porta verso la nostra immaginazione e concentrarci su un solo punto, a mio parere, dà la possibilità di concentrarsi più profondamente. C'è l'idea di vedere il movimento del mare in un ambiente, perché io di solito amo fare dei movimenti d'acqua, sia di particolari o è l'ambiente quasi impercettibile o è solamente una corolla al movimento. In questo caso dovrò andare a gestire superficie più vaste, per cui è importante a mio parere far sì che l'osservatore, colui che godrà poi dell'opera finita, sia guidato da me alla ricerca di quegli spunti, di quelle sensazioni che io vorrei riportare sull'opera, perché non sempre quello che immagino poi effettivamente si traduce nell'opera fatta. Mi capita molte volte di fare un'opera, portarla a compimento, portarla a rafine, magari ritornarci più volte, ma non ho la soddisfazione di vederla come vorrei. Allora a quel punto prendo del bianco, la ricopro e tranquillamente ci rivedo sopra. Così come per esempio sui tratti, cioè io ci sono specialmente se lavoro su superfici come questa abbastanza estese come visuale, non come dimensione. non vado tanto a cercare il tratto, per cui il segno e lasciare il segno come farei in un'opera di dimensioni diverse in quanto concentrato, un movimento d'acqua con magari il primo piano di un'onda. Lì a me piace lasciare il tratto, il segno inciso quasi fosse un tratto scultorio, mentre ecco quando ci sono queste ambientazioni preferisco lasciare un'atmosfera più rarefatta, andare ad ammorbidire le linee. Ecco vedete man mano che la composizione va componendosi, vedete le parti chiare e le parti scure, lascio in bianco ciò che sarà il luce e vado a scurire quelle superfici come dicevamo per creare questo contrasto, questa guida visiva alla scoperta della provenienza della luce. Come vedete la luce sta provenendo lentamente da destra, per cui è una luce che io immagino e che vorrei che l'osservatore immaginasse, non è una luce che io ho servito in primo piano al centro dell'opera, secondo me non godibile, perché l'idea di immaginare perché c'è quell'ombra grande a sinistra, le nuvole trattengono la luce, non riesce a penetrare una superficie perché magari il cielo è troppo nuvoloso o una sola nuvola magari va a coprire la superficie. Come vedete le luci poi si riflettono sia sul cielo, sia sulla parte rocciosa, sia all'interno dell'acqua e questa è la base che andrò poi io a gestire con il colore in un secondo momento e vedremo poi come questa andrà a devolversi. Questo è il tratto grafico della composizione. Come avete visto, tratti veloci, senza ripensamento, tratti diretti che poi andremo a rilavorare con il colore nella prossima esperienza comune. Se vi è piaciuto mettete un like e a presto per la suggestione del colore sulla nostra composizione grafica.